Ciao a tutti, sono Rebicanti e sto andando in Puglia e vi porterò il prossimo video di Gioquanelli e ho accaduto di Puglia di Puglia, forse vi dobbiamo, sì, stanotte Puglia, forse, ma speriamo qui, nevicherà e forse tu vai a Puglia, veniremo con una sorpresa ora, una sorpresa allora, vedete una montagna poi nevata con la veglia nevata, ve la faccio vedere oh, aspettate, aspettate, eccole qua ciao 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 Buon appetito!